Ben trovati! Ben trovati gentili telespettatori di Cilento Channel. Pensate, siamo giunti alla nona puntata e oggi è con noi Mario Capo. Ben trovato Mario. Ciao Gianni, buonasera a tutti. È un piacere come sempre ospitarti sui nostri canali. Oggi faremo una disamina per quanto riguarda le prossime elezioni amministrative che si terranno, come ormai già sanno i nostri telespettatori, e ce lo auguriamo in primavera 2020, due Covid permettendo. Permettimi di dire innanzitutto di ringraziarti per essere qui con noi e per essere sempre pronto insomma a rispondere a quelle che sono le mie chiamate. No, ma Gianni tu sai, te l'ho detto in privato, lo dico anche in pubblico, che io non solo è un piacere, vi ringrazio per la partecipazione, ma ritengo anche che Cilento Channel in questi anni sta svolgendo un ruolo importantissimo sul nostro territorio. Quindi per me è un piacere conversare con te e dare un mio contributo attraverso la vostra TV che tanto dà al territorio agropolese e non solo. E permettimi di lanciare insomma un sassolino a favore nei tuoi confronti perché proprio perché ti ritengo una persona valida dal punto di vista politico, io al di là di tutto insomma mi auguro di vederti tra i consiglieri ecco nel prossimo consiglio comunale, quindi a meno che non ti candidi al sindaco. Poi ne parliamo, penso che l'oggetto come dire della chiacchierata di stasera è esattamente questo, quindi avremo modo di parlarvi. E allora dai, prima domanda, naturalmente ti candidi, hai scelto già una lista politica, realizzerai una lista tua, insomma raccontaci un po'. Ah, approfitto, approfitto per complimentarmi con te anche per l'iniziativa della lista che stai animando, perché credo che sia una bella iniziativa a prescindere dalla collocazione che avrà poi nello schiacchiere finale. Invece rispondendo alla domanda, guarda Giovanni io credo che una cosa che noi dovremmo evitare noi tutti in questa fase è quella di fare apparire quello che almeno per me non è, cioè sembra che in questa fase tutti quanti noi dobbiamo trovare degli accordi su qualcosa, e quindi saremo con l'uno, con l'altro, saremo candidati, non candidati in ragione di accordi che di tutto sembrano essere composti fuorché di principi e programmi da realizzare. Allora, io non vorrei sembrare uno all'antica, però dico che per me la scelta di una collocazione, la scelta di scendere in campo, di impegnarsi, eccetera, non deriva dalla simpatia per l'uno o l'altro candidato. Ritengo che tutte le persone che in questo momento sono in campo sono persone che hanno una loro dignità nella proposta e sul piano personale sono amico di tutti. Le mie scelte derivano dalla condivisione di alcuni principi e di alcuni obiettivi. Ne dico, come dire, due proprio facendo una macro suddivisione. Principio da cui veniamo è obiettivo al quale dobbiamo andare. Faccio proprio una schematizzazione. Il principio ispiratore di una mia partecipazione alle elezioni amministrative è parte da una mia valutazione che è quella di ritenere che gli ultimi 15 anni del governo della città di Agropoli siano stati per moltissimi aspetti fallimentari. Io non ritengo che questi 15 anni siano stati proficui per la città e abbiano prodotto un risultato nel rapporto costi-benefici a favore della città. Io mi rendo conto che in questi 10 anni ci sono stati consensi anche pubblicitari a favore di questa compagine amministrativa, quindi mi rendo conto di essere anche isolato un po' in questa valutazione. Se pensiamo che il candidato sindaco di 10 anni fa ha ottenuto il 90%, mi rendo conto anche di essere un po' isolato. Però io con orgoglio rivendico che allora appartenevo a quel 10% e oggi l'ispirazione di una mia azione si fonda ancora su questa mia valutazione. Quindi, prima cosa che ci deve essere è la condivisione di questa analisi. Questo non significa che chi ha partecipato a queste amministrazioni negli ultimi anni non possa oggi avanzare un'altra proposta. Significa però che deve in qualche modo rivedere la propria analisi di partecipazione a questo filone amministrativo e ritenere che questo filone amministrativo vada cambiato. Quindi, penso di essere stato chiaro nel principio. Obiettivi. Gli obiettivi sono riportare un'amministrazione sana dell'ET. Secondo me è assolutamente vergognoso che un comune come il comune di Agropoli abbia sistematicamente bilanci in bilico. Non uso la parola dissesto perché ha un'accezione tecnica quella del dissesto. Dico in bilico, ed è assolutamente vergognoso che i bilanci come quello del comune di Agropoli si basino su una volta l'autovelox e un'altra volta il Covid. Perché se non ci fossero stati l'autovelox e il Covid, il comune di Agropoli sarebbe dissesto da un po'. Allora, questo è un obiettivo che non riguarda un aspetto ragioneristico dell'ET. Cioè, al cittadino dovremmo far capire che se i conti del comune di Agropoli vengono gestiti in un determinato modo, il primo che ne ricava beneficio è il cittadino stesso. Perché il comune di Agropoli si regge sulle entrate dei cittadini e le entrate vengono determinate in ragione di un'amministrazione. Per cui, obiettivo amministrazione trasparente ed efficiente è essenziale per me nella prossima consultazione. Secondo obiettivo essenziale è la qualità e le opportunità economiche che offriamo ai giovani di questo territorio. Io, quando faccio l'analisi dei 15 anni passati, faccio a me stesso e a chi mi ascolta una domanda. A fronte di impegni di spesa per 100 milioni di euro, è stato dichiarato dagli amministratori, quindi non lo dico io, a fronte di un indebitamento mai raggiunto nella storia del comune di Agropoli. La qualità della vita degli agropolesi, le opportunità economiche di lavoro e di prospettiva per i giovani agropolesi, sono migliorate a tal punto da sostenere questo gigantesco indebitamento? Io penso che se la risposta degli agropolesi è sì, allora bisogna che diano continuità a questi 15 anni. Se la risposta è no, come io penso, è necessario che ci sia una discontinuità totale nella accezione e nel modo di vedere l'amministrazione prossima, dove mi collocherò, laddove questi principi sono più condivisi. E poi possiamo passare a un'analisi più specifica. Complimenti, no, è davvero un'analisi politico-economica che insomma troverà secondo me dei riscontri. La domanda prossima però è questa. Mario, purtroppo per contrastare eventualmente l'amministrazione uscente c'è bisogno di un accordo, diciamo, plurimo, no? Più partecipanti dovrebbero insomma unirsi, ma sembra che ci sia un po' di crisi nel centrodestra, diciamo in quel settore dove tu probabilmente ti rivedi, no? Come fare per superare questo gap? Sì, allora, se oggi guardiamo i numeri, diciamo, storicamente, dovremmo dire che il centrodestra, diciamo sul piano amministrativo, perché non è così sul piano politico, il centrodestra sul piano amministrativo è minoritario e non ha un'organizzazione territoriale tale da poter rambire a una competizione alla pari. Cioè sembra che i numeri stiano da un'altra parte. Però io continuo a ritenere, Gianni, che la differenza la farà la proposta. Cioè noi siamo a cinque, sei mesi dalle elezioni. Siamo in ritardo, cioè nel senso che dovevamo già presentare un candidato sindaco con una proposta che io aspico sia quella che ho delineato. Se questo lo facciamo, io credo che noi riusciamo a spostare degli elettori, perché penso che chiunque abbia ambizioni di cimentarsi con la prossima competizione elettorale, e lo dico anche a te, proprio a te personalmente. Chiunque abbia ambizione di cimentarsi nel ruolo che riterrà nella prossima competizione elettorale, debba necessariamente coltivare l'ambizione di liberare il consenso. Perché se il consenso non si esprime liberamente, diciamocela tutta, perché non stiamo, stiamo tra molti che ci ascoltano, però diciamocela tutta, se il consenso non si esprime liberamente, se prevalgono logiche clientelari, lo possiamo dire, perché questa, a mio avviso, è un'altra grande pecca, anzi forse la più grande pecca che è caratterizzato questi quindici anni, se prevalgono logiche clientelari, la partita non c'è. Per cui, alla fine, se ci sarà o non ci sarà la competizione, dipenderà molto da quello che faremo noi, cioè dalla nostra capacità di allestire una proposta competitiva è realmente alternativa e chiara, ma alla fine dipenderà molto dalla percezione che i cittadini hanno rispetto a questa prospettiva di cambiamento. Questa è la verità. Chiaro. Senti, come analizzi invece la divisione in maggioranza che ultimamente abbiamo verificato, nel senso che il Presidente del Consiglio, che era un alleato di Coppola, si è dimesso. Come leggi questa... Con una battuta dico meglio tardi che mai. Nel senso che io stimo il Presidente del Consiglio, un amico mio, Massimo Laporta, con il quale molto spesso, insomma, non abbiamo condiviso alcuni atteggiamenti più tattici che politici, in verità. Dico meglio tardi che mai e mi auguro che faccia parte di quella schiera che intendono rivisitare questo passato dei 15 anni e apportare a questo passato le dovute correzioni. Vada bene, Giovanni, io vi faccio solo un'evidenza. Non vorrei essere facile profeta, come lo sono stato in altre occasioni. Se queste correzioni nel metodo amministrativo non vengono apportate, il futuro del lente comune di Agropoli sarà tutt'altro che Rosio. Io credo che siano essenziali queste correzioni. E come diceva un grande filosofo, chi ha creato il problema non lo potrà risolvere. Quindi per risolvere il problema ci vogliono persone che non l'hanno creato. In questa condizione si può trovare, a mio avviso, anche una coniugazione con esponenti che hanno fatto parte dell'amministrazione comunale che l'hanno interpretata. Penso per esempio al mio amico e collega Roberto Mutali Passi. Penso che Roberto, pur nella diversità delle azioni politiche, pur in un contesto che io non condivido assolutamente, ha una capacità di analisi e divisione delle cose che potrebbe sicuramente essere utile in un proseguo dell'amministrazione e che ha obiettivi diametralmente esposti a quelli che sono stati perseguiti in passato. Certo. Coniugare le due cose non è semplice, però può essere utile perché mette insieme un po' di numeri in più, la conoscenza delle cose e la volontà di cambiare. Cioè, se queste tre cose trovano una coniugazione, l'alternativa diventa molto più praticabile. Certamente. Senti, veniamo più strettamente al tuo amico Emilio Malandrino che spesso vi si vede insieme anche a pranzo, a cena, siete insomma da sempre uniti nel centrodestra, tranne qualche parentesi, mi sembra, di Malandrino qualche anno fa nell'Udc. Vabbè, chiudiamo parentesi, altrimenti il discorso diventa lungo e quindi... No, guarda, qualsiasi... Mi dico una cosa, posso interrompare? Come no? La nostra è una chiacchierata amichevole e sicuramente i telespettatori insomma si stanno comunque interessando e divertendosi, no? La mia amicizia nei confronti di Emilio è tale che potrebbe andare anche a rifondazione comunista, non cambierebbe assolutamente nulla. E' facile. Quindi, questa è la premessa essenziale per cui, diciamo, il nostro rapporto politico è assolutamente secondario rispetto al nostro rapporto di amicizia. E infatti, e proprio per questo motivo io ti chiedo, state ragionando insieme per scegliere un ipotetico candidato che sembra essere, almeno dai rumors attualmente, il più vicino a voi, Emilio Cianciola? Allora, io mi sono fatto promotore prima che avessi un stop, diciamo, causa Covid, mi sono fatto promotore di alcune riunioni in cui ho cercato di mettere insieme tutte o quasi tutte le anime che vorrebbero contrapporsi all'amministrazione attuale nella prossima tornata. In questa tornata c'era Nino Cianciola, in queste riunioni, scusa, c'era Nino Cianciola, c'era Natalino Caccamo, c'era Felle Pesce, Michele Pizzi, Antonio Adomini, ne dimenticherò sicuramente qualcun altro, il gruppo di ABC, quindi, voglio dire, credo che era tutto il panorama, diciamo, delle possibili alternative. La piattaforma sulla quale ho cercato di fare un ragionamento è se condividiamo l'obiettivo di una alternativa, tutti dovrebbero fare come faccio io, e lo dico con, diciamo, con scherzo, ma anche con serietà. Come faccio io? Per me il risultato di giungere a un cambiamento della macchina amministrativa e della compagine che ha guidato Agropoli negli ultimi 15 anni è prioritario. Prioritario significa che viene prima di ogni ambizione personale pur legittima. Per cui, ho chiesto a tutti uno sforzo di guardare così le cose. Cioè, non scegliamo il candidato sulla base di criteri che poi non si comprendono. Scegliamolo all'interno di questo gruppo dove tutti quanti ci impegniamo a sostenere il candidato prescitto a partire da me in relazione al raggiungimento di questo obiettivo. Devo dire la verità questa riunione diciamo ripetuta ha trovato un momento di stop. Non so se per diciamo ragioni di carattere personale o se per ragioni di carattere politico ma la dovremmo riprendere. Per cui, quando tu mi dici il nome di un ipotetico candidato sindaco io ti dico che per me tutti i candidati sindaci vanno bene se fanno questo tipo di ragionamento. Molto chiaro. Senti, invece per quanto riguarda il disguido l'ho detto pure a Emilio tra lui e l'ex sindaco di Castellabate anche tu sei dell'opinione che non bisognerebbe accettare una candidatura dello straniero tra virgolette. No, più che straniero Costabile è un amico più che la candidatura dello straniero io a prescindere dalle questioni di Costabile o di altri sono un po' contro i sindaci di professione perché io ho fatto un ragionamento semplice dove lo posso fare ogni cittadino. Il sindaco di un comune come Agropoli o come Capaccio ha uno stipendio di duemila duemila e cinquecento euro al mese. Diciamo uno stipendio un buon stipendio. Credo che persone che hanno capacità eccesse nella amministrazione non penso che ambiscono un ruolo del genere per una questione di carattere economico perché mi pare diciamo abbastanza è il riso è certo quindi l'ambizione a ricoprire un ruolo quale quello del sindaco che è un ruolo di prestigio a mio avviso può derivare solo da un'altra molla che è quella di dare un contributo con onore con orgoglio alla propria comunità se l'esponente non è non incarna questa comunità quale altra molla ci può essere per cui io sono contro i sindaci di professione chiunque fa politica che ha fatto il sindaco può avere l'ambizione ha il diritto di avere l'ambizione a una professione di carattere politico ma ci sono gli organismi sovracomunali per fare professione per cui ognuno che ha fatto il sindaco che ha avuto la possibilità di candidarsi alle regionali alla camera al senato ed è giusto che rappresenti un territorio più vasto ma il territorio di quella comunità quel comune a mio avviso non c'è ragione per cui un sindaco di professione si trasformi nel rappresentante principale di quella comunità molto bene senti guardiamo adesso al centro-sinistra tu sei convinto che Adamo Coppola sarà il candidato che rappresenti appunto quell'area o Franco Alfieri butterà l'asso diciamo all'ultimo minuto tu conosci bene la politica agropolese ricordiamo un attimo quando sei sceso in politica giusto per fare un attimo a chi a chi mi dice ma tu vuoi fare il consigliere comunale eccetera eccetera io gli dico di sì voglio fare tutto quello che si dice però quando dicevo che la mia ambizione personale è secondaria rispetto all'obiettivo lo dico perché Giovanni credo di essere stato il più giovane assessore vice sindaco della storia del comune di Acropoli cioè avevo 27 anni ero praticamente un ragazzino esatto mi risulta mi risulta che Gerardo Bruzzese ogni tanto fa con me una disputa ritenendo che lui è diventato assessore qualche mese prima rispetto alla mia età quindi vorrebbe il primato Mario vorrebbe il primato esattamente ma in ogni caso avendo fatto questa esperienza diciamo appunto da ragazzino con l'amministrazione ma autore riproporre diciamo questa cosa non è per me prioritario veramente in questa fase l'unica priorità che ho è quella di cercare di rimettere questa comunità sul piano che è questa città sul piano che merita quindi ripercorrendo diciamo le mie attività politiche poi ho fatto il consigliere comunale successivamente facendo una dura opposizione da Antonio Domini anche qui e poi rilevando con lui una amicizia diciamo forte nonostante la decisa assoluta contrapposizione politica e quindi mi scusa la domanda però me l'ho persa perché tu mi hai detto ripercorri la storia me l'ho persa la domanda certo perdona la mia esuberanza insomma in realtà ti chiedevo della possibilità di candidare in modo ufficiale Adamo Coppola nel senso noi sappiamo benissimo che Alfieri è colui che decide no? l'ex sindaco di Agropoli Adamo Coppola è convinto che sarà lui il candidato però ci sono voci in giro che non danno per certo questa candidatura tu che conosci bene la politica ecco perché poi ho tirato fuori la tua giovinezza no? conosci bene la politica penso che un'analisi tu possa farla possa farla insomma con esperienza eh? no però sono abbastanza giovane graficamente rispetto ai tanti candidati sì certo assolutamente lungi da me questo 54 anni non compiuti va bene ok allora stavo dicendo questa questa domanda sarà Coppola o non sarà Coppola io se fossi il sindaco attuale con ciò che ha espresso e con ciò che mi pare che voglia esprimere cioè ritenendo che lui ha fatto bene e che possa essere il prossimo sindaco di Agropoli non mi sognerei neanche per un minuto di attendere l'investitura da parte di un altro soggetto cioè il principio essenziale che secondo me dovrebbe guidare l'azione del sindaco attuale è quello di dire io ho fatto il sindaco per cinque anni secondo me l'ho fatto bene posso ancora migliorare farlo operarti cinque anni nello stesso momento in cui aspetta l'investitura perde a mio avviso ogni autoregorezza quindi Adamo sarà o non sarà il candidato espressione di veramente non so che dire io credo che alla fine sì però la cosa più rilevante non è se lo sarà o se non lo sarà la cosa più rilevante è che oggi il sindaco attuale debba aspettare l'investitura di un altro io onestamente questo lo avverto come una mortificazione del ruolo e come cittadino di questa comunità lo avverto come una mortificazione del ruolo del sindaco perfetto il nostro tempo ahimè è scaduto per essere in linea con i tempi usati utilizzati anche con gli altri candidati nonché amici insomma perché poi alla fine al di là dei colori politici l'importante è che ci sia stima e amicizia tra tutti quanti noi davvero lo dico insomma in modo molto diretto Mario io ti ringrazio è volato il tempo però sono passati è volato è perché perché nella tua linearità nell'esposizione insomma ti lasci comunque ascoltare tant'è vero non ti ho mai bloccato come uso fare nelle mie interviste e quindi va bene così non sarà l'ultima volta che ci sentiremo insomma ci saranno altre occasioni il tempo diciamo ce n'è fino a primavera quindi anzi ti dirò lo dico ai nostri telespettatori manca Raffaele Pesce alle consultazioni per poi fare una sorta di sorteggio in diretta per cominciare anche il confronto quindi dopo le consultazioni chissà se la tua diciamo attività questa delle consultazioni non farà nascere una coalizione io lo spero guarda perché comunque molti mi fermano per strada insomma mi telefonano e mi ringraziano per questo non devono ringraziarmi Mario è diciamo il mio lavoro che terminerà probabilmente 30 giorni prima delle elezioni per correttezza insomma lasciare pure Cilento Channel perché ci deve essere una asetticità tra l'impegno del giornalista e l'impegno del politico quindi è giusto che sia così però fino a quel momento insomma riusciamo a ragionare tutti insieme per trovare magari delle soluzioni utili per far sì che la campagna elettorale possa essere diciamo più equilibrata possibile perché poi no Mario alla fine è così quando c'è un equilibrio e quindi i nostri cittadini scelgono sicuramente da questo punto di vista io auspicherei che le proposte attualmente in campo arrivino tutte a destinazione perché sarebbe un bel esercizio democratico a cui negli ultimi tempi ci siamo disabituati ed è questa la politica che ci piace diciamocelo no? esatto ecco allora con questo presupposto io ti ringrazio ti saluto e alla prossima Mario grazie a te un saluto a te e a tutti gli spettatori buonasera grazie a te grazie a te